ciao a tutti fan diretti conan benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo sarà un video solo le curiosità quindi da tanto non ne facevo uno e sarà un video dove vi sporrò 5 curiosità sul mondo del doppiaggio inerente a detective conan e questo è un video molto breve perché c'è poco da dire e comunque giusto per evitare di non pubblicare niente quindi intanto sto lavorando a qualcosa di più sostanzioso intanto mentre vedete questo video intanto io lavoro a qualcosa e ci ho puntato 5 curiosità una tra l'altro vabbè vi dico dopo allora passiamo con la prima curiosità ossia il doppiatore di scinici stavo scrollando su tiktok e mi sono imbattuto in uno di quei video dove scorrere le pagine c'era un video sul doppiaggio c'era foto del doppiatore ed era il doppiatore di scinici e tra tutte le persone che ho doppiato c'era anche kato kid quindi è un po' scontata questa che avevo avuto per l'inizio e che cinici il doppiatore di cinici giapponese ovviamente è lo stesso doppiatore di kato kid il che ci sta perché sono praticamente sosia perché almeno sono i capelli e il comportamento e quindi ci sta che hanno anche la stessa voce hanno più o meno la stessa età e ok un'altra che è abbastanza conosciuta è quella del doppiatore di takaji all'inizio wataru takaji non doveva essere un personaggio canonico quindi non ci sarebbe stata tutta la love story con l'agente sato poi con giratori la rivalità in amore e tutta la storia è legata a lui però quando non mi ricordo se era il doppiatore di Megure o di un altro agente stava chiamando l'agente takaji sarebbe abbastanza conosciuta questa e l'ha chiamato distinto con il suo nome mi ha detto agente takaji takaji keji takaji keji è il vero nome del doppiatore quindi ebbene sì il doppiatore takaji si chiama takaji rimaniamo in ambito di takaji e parliamo del doppiatore di takaji che è lo stesso di un altro sempre giapponese ovviamente è lo stesso di un altro personaggio un po' ci si rispetterebbe se lo guardiamo in giapponese perché si vede proprio questi due personaggi dello stesso timbro però non è che appaiono sempre insieme e uno non lo sospetta perché sono personaggi di età molto diverse infatti parliamo di takaji il doppiatore giapponese è lo stesso non mi ricordo cioè questo stava tipo in un quiz non mi ricordo se il quiz l'abbiamo fatto insieme nel gioco o un altro quiz che ho fatto io mi sarebbe un altro dove diceva il takaji condivide il doppiatore con e l'esplosare a gentakojima e quindi sì hanno la stessa voce sono doppietti dalla stessa persona poi quello che vi dico per prima ok vi dico questa sempre scrollando su tik tok ho visto sempre la stessa pagina e ho scrollato e c'era il doppiatore di refuruia e non so come dirvelo cioè forse qualcuno sapreva qualcuno però non ci crederete noi nell'anime lo conosciamo come toro muro refuruia o barbon che succede se mettessi insieme toro muro e refuruia toro furuia è il suo nome ed è il nome del doppiatore di di Conan eh sì di di refuruia quindi buon pomeriggio come ti posso aiutare fatto è un colpo Siri zitta sì è lo stesso doppiatore di refuruia sì è il doppiatore è lo suo e è probabilmente quindi il nome toro muro e refuruia verranno al fatto che il nome di eh del personaggio i due nomi uno falso uno quello usato da detective uno dall'agente pubblica di sicurezza derivino forse dal almeno secondo me derivano dal dal mio doppiatore toro furia e ora passiamo all'ultima curiosità questa mi ha colpito diciamo questa cosa sarebbe appena detto ora passiamo all'ultima curiosità parliamo della doppiatrice di Conan quindi dulcesi in fundo eh Conan è doppiata da Minami Takayama Minami Takayama era la moglie di Goshio Yama in vari forum si dice che solo Goshio Yama uno dei produttori del ventesimo film e la stessa Minami Takayama sa chi è il boss dell'organizzazione quindi non sarà parte tra l'altro quindi Conan e lei essendo anche l'ex moglie sa che chi è il boss ma gli è la riferito a Yama per forza ed è una cantante infatti Minami Takayama fa parte del gruppo musicale dei Chumix che canta la quinta sigla dell'anime ossia Truth A Great Detective Love e quindi cosa mi ha fatto pensare nell'episodio in cui compaiono i Chumix noi sappiamo per esempio appaiono personaggi famosi come Mike Kuraki la cantante di molte sigle che ha vinto il Guinness per aver cantato il maggior numero di sigle in un'opera ossia Conan e appare varie volte per esempio nel caso delle 3K come comparsa di due secondi e quando corre l'usser arriva le celebrità che ci sono alla fessa e nella sigla 23 appare un cartellone pubblicitario e soprattutto appare anche nella gita dove i Shinichirana si danzano difficilmente e quindi lasciando questo Minami Takayama quindi appare nell'episodio quando i Gigi Mix vengono rapiti perché fanno una canzone su su un episodio che poi si rivela essere stato una sparatoria con un furto mi pare e quindi i malviventi li rapiscono Conan li riesce a salvare e poi l'episodio finisce c'è un Conan che sonato inizia a cantare sul palco insieme a Minami Takayama quindi in mente questa scena buffa che c'è Minami Takayama dentro l'anime doppiata da Minami Takayama forse o almeno quando canta e Minami Takayama doppia anche Conan quindi è una bella curiosità tra l'altro il fatto che Minami Takayama sappia chi è il boss vuol dire che comunque Gosho Yama gliel'ha detto e quindi possiamo azzardare ma solo azzardare con tantissime virgolette che potremmo fare un incrocio tra quando Gosho Yama e Minami Takayama stavano ancora insieme perché magari gliel'ha detto in quel periodo e che poi si sono lasciati non è sicuro ovviamente perché poi magari possono essendo che lavorano la stessa opera sono rimasti in contatto gliel'ha detto però è un indizio comunque sappiamo che Minami Takayama sappia l'identità del boss e non è da sottolotare l'indizio che ho trovato che uno dei produttori del ventesimo film sappia l'identità del boss e ora ho andato a fare una ricerca mi sa appena ho finito di editare il video e in intendi queste erano le 5 curiosità la più scontata la più la più bella Roshini ha creato che ha lo stesso doppiatore e il doppiatore di Takagi si chiama Takagi Takagi ha lo stesso doppiatore di Jenta il il doppiatore di Rei si chiama Toru Furuya e la doppiatrice di di Kona la mia Takagi Yama e l'ex di Aoyama tra l'altro i giovani tutti finiscono Yama 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 che vuol dire montagna quindi Aoyama vuol dire montagna blu quindi vabbè però non mi vale non dare il suo vero cognome vabbè sto lasciando questo e spero che il video vi sia piaciuto vi avervi strappato un sorriso con tutto quello che dico di avervi incuriosito sul mondo di Conan a me fa sempre piacere fare un nuovo video quando dico ah c'è si deve un video oppure mo sul libro faccio un video sto sempre felice di di pubblicarlo e soprattutto di farlo per vedere poi le vostre interazioni i vostri commenti eccetera quindi non perdete tempo mettete like qui sotto lasciate un commento per dirmi altre curiosità e lo iscrivete al canale che stiamo crescendo sempre di più e niente io vi saluto cari fan di Conan ciao ciao ciao